Tutti pronti agli ordini dello starter? Grisdea sfila in corda sull'Avenir AC, c'è Drek che si mette dietro, addirittura dietro Razza d'Arcadia e all'interno Deira Miracle, di fuori Super Verdats. Grisdea conduce su Super Verdats, di dentro l'Avenir AC, che precede Deira Miracle, c'è Drek all'esterno in corda a Razza d'Arcadia. Non cambiano le posizioni con Grisdea che porta a spasso la compagnia, l'Avenir AC è in seconda posizione in corda con di fuori Super Verdats, Deira Miracle, a di fuori Cedrek, di in coda Razza d'Arcadia. La curva di sinistra non accade niente e finora non deve accadere niente, non siamo ancora nel clou della corsa. Quando manca 1200 metri alla conclusione, Irisdea, l'Avenir AC, Super Verdats di fuori, rimane coperta Cedrek nella scia del grigio, in corda Deira Miracle, in coda Razza d'Arcadia. Irisdea, l'Avenir AC, Super Verdats, Cedrek, Deira Miracle, non cambia le posizioni, ora Cedrek si scopre su Super Verdats, cercando di portarsi sull'Avenir AC e Irisdea. Sulla curva Cedrek va a fare il match con Irisdea, Irisdea di dentro e Cedrek di fuori, gliela deve far sentire Fele a Branca. Quel vantaggio di peso, quei 5,5 kg sono un fattore, addirittura Irisdea contro Cedrek, poi l'Avenir AC, più indietro Super Verdats, Razza d'Arcadia e Deira Miracle. Con Irisdea che assaggia la frusta, Cedrek prova l'aggancio, i due vanno a fare la volata con l'Avenir AC di fuori, gli altri non ci sono. Irisdea è in corda e in vantaggio su Cedrek e l'Avenir AC, Irisdea che sembrerebbe controllare perché Fele guarda e basta, accorce le redini. Irisdea se ne va da Cedrek che lotta con l'Avenir AC fino in fondo, alla fine Cedrek respinge l'Avenir AC per il secondo. 3-1-4 è l'ordine d'arrivo di questa prova doveva vincere Irisdea, Irisdea è stata al totalizzatore 1-61 il favorito assegno. Endo Botti galoppo per la nuova sbara, Cristiana Brivio in supporto al team di Endo Botti e per questa terza corsa sarò solo è tutto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.